nuovi propositi per il 2018 per me quest'anno è stato un po strano vi dirò è stato pieno di crescita su youtube e sul lavoro ho fatto obiettivamente tante cose su youtube ho fatto obiettivamente tantissimi video che hanno portato a tanta crescita ho disegnato sempre per lavoro per svago e anche questo ha tutto portato a tanta crescita ho lavorato con tantissime persone che sia sabrina erene karen sasha tutti i mails e tantissimi altri che anche questo mi ha portato a tanta crescita ho iniziato questo anno a gennaio su youtube con circa 2000 se non 3000 iscritti diciamo 3000 iscritti arrivo a dicembre per quanto riguarda youtube con quasi 50.000 i numeri spesso non contano ma in questo caso mi fa sentire crescita la parola chiave è crescita ma ancor meglio quello che piace a me la parola che piace di più a me è progresso ho iniziato quest'anno a gennaio aprendo una partita iva per essere indipendente disegnare e guadagnare con il disegno che serve per vivere ergo sopravvivere ho concluso questo anno con la partita iva decentemente diciamo con tutti questi dati alla mano i miei propositi per il 2018 li raccoglierò in tre parole tre parole tre frasi la prima la più importante do more fai di più che tra l'altro mi tatuerò il 18 gennaio work harder ok non voglio pronunciare così di cacca work harder work hard fuck tre care less sono le tre frasi principali che hanno governato il mio 2017 ma non al 100% do more questo piccolo peo qui ha impostato la sua giornata tipo del 2017 in questo modo volendo o non volendo cioè non intenzionalmente questa è una giornata da 24 ore il rosso faremo che è famiglia io mi sveglio la mattina e penso al cane e c'è famiglia diciamo 7 a m quando riesco e quando stacco intorno alle 17 o 18 diciamo 18 ripenso alla famiglia il blu è lavoro che ricordiamo il disegno animazione e tutto ciò che riguarda essere creativo nella mia partita iva per guadagnare e sopravvivere si può dire tranquillamente che tutta questa bella parte di giornata è dedicato a quello utilizzeremo il verde per youtube che per me youtube facciamo facciamolo qui bello grande quando il lavoro non è sufficiente quindi minore uguale a sfamare la mia creatività ottengo youtube youtube per quanto riguarda le registrazioni sono infilate quella nella giornata ma spesso il weekend comunque sia l'inserirò qui come se fosse un'oretta ogni tanto ma soprattutto dal mese di dicembre e novembre in cui ho deciso di fare un video al giorno youtube doveva occupare altra parte della serata quindi diciamo che qui arrivano le due del mattino mi è capitato spesso di editare fino a tardi utilizziamo l'arancione per il sonno e togliere quindi le ore di sonno come se non bastasse quest'anno mi ero imposto di fare sempre attività fisica costantemente che però purtroppo spesso ha tolto del tempo a youtube o alla famiglia è abbastanza chiaro d'humor è molto importante significa non stare mai con le mani in mano significa non chiudere la giornata alle 18 e andarsi semplicemente a buttare davanti al divano e fare nient'altro almeno a me non basta a me non è sufficiente sembrano le parole di un psicopatico d'humor significa non lamentarsi questo per me è una cosa molto importante perché là fuori c'è sempre chi si lamenta e non c'è lavoro e non so che fare e mi annoio e mi è andata male di qua mi è andata male di là non lamentarsi fare punto d'humor non solo in ambito lavorativo non significa solo quello devo fare di più per la famiglia e devo fare di più per me stesso ma poi qui arriveremo al terzo punto dopo ma per me la cosa più importante del tumor in assoluto è creare sempre di più che sia su youtube che sia sul lavoro di più di più cristo work harder sarò breve per questo punto è difficile far riconoscere se stessi come un professionista è difficile anche per se stessi dire io sono un professionista ma dopo questo 2017 questo dovrebbe essere un cervello devo mettermi in testa che io sono un professionista quindi per questo 2018 devo devo mettermi più in mostra e mettere più in i miei disegni questo per ottenere più lavoro qui non so che lettera volevo fare comunque una quindi se qualcuno di voi interessato può contattarmi electricpeo90.com preferibilmente aziende lavorare di più per aziende meno privati questa non è per cattiveria ma semplicemente che uno non può andare avanti a lavoretti piccoli 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 e sperare di arrivare alla fine del mese uno deve anche cercarsi i lavoroni ovviamente do more e work harder vanno a braccetto come diavolo posso disegnare che vanno a braccetto ecco do more work harder vanno a braccetto ricordiamoci che la parola chiave iniziale dei buoni propositi è progresso per questo do more e work harder sono essenziali se io non sento di stare crescendo non sono motivato e non do il cento per cento quindi progresso creare di più per me per quanto riguarda do more per lavoro uguale progresso punto numero 3 careless scritto grande careless è importante dal punto di vista lavorativo e sociale questo può essere un consiglio anche per voi lavorativo può essere intesa anche come la scuola careless sta per fregatene non del lavoro della scuola in generale ma di tante cose inerenti a questi che mettono ansia che ti lacerano l'anima e lo raffigurerò come un cuorecino spezzato anche se sembra che non c'entra niente perché nel lavoro e nella scuola tu hai aspettative le tue aspettative possono essere influenzati per la maggior parte dal tuo impegno ma se altre persone sono coinvolte insegnanti o che sia le aspettative non potrebbero essere delle migliori non potrebbero potrebbero anche non realizzarsi ecco ma la domanda giusta è c'è stata crescita sì no comunque sia entrambe portano avanti il prossimo lavoro avanti il prossimo compito in classe avanti ci rifaremo l'importante è sempre avere crescita e progresso non farsi attanagliare l'anima da quello che pensano gli altri non farsi lacerare lo stomaco da alcuni risultati più o meno negativi come un esempio può essere youtube un video non è andato come speravo anche se ci ho messo cuore anima un lavoro che hai fatto non è stato ultra soddisfacente hai studiato per un esame un compito in classe e se è riuscito comunque a prendere un voto basso si va avanti quello non macchia diciamo così non macchia irrimediabilmente il tuo futuro si fanno errori si impara degli errori si va avanti e perché sto facendo un video del genere non lo so careless dal punto di vista sociale per me non è male avere persone vicino sono sinonimo di supporto forza motivazione ma al contrario alcune possono essere sinonimo di negatività amarezza e utilizziamo una parola simpatica moschume è la più adatta se ci sono persone nella vostra vita che vi influenzano in questo modo vanno eliminate non nel senso sicario adesso ammazziamo le persone nel senso che vanno eliminate dal vostro cerchio sociale questo almeno quello che penso io se ti circondi di persone positive che ti motivano che ti trascinano che ti spingono che tirano fuori il meglio di te secondo me il miglior modo per andare avanti non c'è cosa migliore che fare in un gruppo creativo di persone che ti spingono a fare a me questo ultimamente manca e si sente cerco di circondarmi di persone del genere ma sono tutte distanti e non è come quando l'università ero pieno di amici del genere quindi questo è da risolvere ma non so se ho spiegato bene la parte careless detto quello che abbiamo detto fino adesso careless per me significa non farsi toccare da altre persone ma per toccare intendo influenzare certe persone possono davvero cambiarti la giornata da così a così dipende tu quanto le hai fatte entrare nella tua vita possono farti prendere decisioni sbagliate perché puoi essere affetto da sentimenti debito senso del debito tipo lei ha fatto o lui ha fatto qualcosa per te tu ti senti dove fare qualcosa e viceversa e questo compromette il progresso ma care less soprattutto significa fregarsene di tutto questo di tutto quello che ho spiegato prima di tutto ciò che è negativo perché questo è quello che influenza appunto negativamente il tuo lavoro la tua voglia di fare e ritorniamo ai punti non lamentarsi do more eccetera so che fino adesso sembra un po il video di uno psicopatico ma quello che vorrei trasmettere a chi mi guarda alla fine di questo video è semplicemente si sempre positivo non lamentarti se c'è qualcosa che non va ma fai qualcosa a riguardo lavoro a sodo per i tuoi sogni per quello che tanto vorresti fare per quello che vuoi che caratterizzi questo 2018 è quello che farò io non per i soldi non per lo stato le tasse le cose per il tuo paese vattene anche in irlanda vai dove vuoi fallo per te stesso circondati di persone positive ti daranno la carica la motivazione e non c'è nulla di meglio dell'università per incontrare queste persone perché è lì che secondo me si incontrano le persone che davvero hanno voglia di fare almeno in questo paese ne approfitto per salutare il collettivo loro sanno per concludere careless non abbatterti rialzati sempre impara dai tuoi errori fregatene di tutto e tutti elementi negativi abbraccia quelli positivi questo è quanto per questa guida sulla vita alquanto improvvisa e inaspettata del peo ricorda sempre io non sono nessuno nessuno per dirti cosa fare o cosa non devi fare questi sono i miei buoni propositi per me potresti condividerli come odiarli e scrivere commenti cattivi ma ricorda una cosa essere buono richiede impegno quando io incontro una persona buona è molto probabile che l'adorerò essere cattivo scortese è facile e pigro quindi dite a tutta la gente cattiva là fuori che non si impegnano abbastanza ricordati di mostrare un bel po di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se questo video ti è piaciuto iscriviti se non sei già iscritto cliccando il pulsante sotto con scritto iscriviti la firmetta peo qui in basso a destra ma ricordati che questo video ambiguo e strano e particolare che non sapevo perché cioè non so perché l'ho fatto ma vabbè lo ha fatto electric mi è piaciuto questo video particolare non so voi ma mi sono divertito alla fine guardate i fogli che ho disegnato non sono tanti a parte scherzi ragazzi vi auguro un fantastico 2018 spero che possiate crescere nelle vostre passioni nei vostri studi in qualunque cosa vogliate fare stiate facendo avete il mio supporto pieno datevi da fare andate là fuori rompete il culo al prossimo proprio con la forza della volontà l'amicizia e tutte quelle cose tipiche dei shonen bella ciao